Terra amara, episodio serale di giovedì 18 gennaio. Fikret è in uno stato di grande agitazione riguardo al caso di Zuleya e non riesce a controllarsi. Questo lo porta a discutere animatamente e senza ragione con i suoi dipendenti nel cotonificio. Chetin, notando la sua rabbia, tenta di calmarlo, ma Fikret si infuria ulteriormente e lo sfida a lasciare il lavoro se non è soddisfatto. Le parole dure di Fikret feriscono Chetin, che decide di andarsene. Nel frattempo, Hakan e Zuleya si trovano a Izmir, dove Hakan deve occuparsi di alcune questioni doganali. Zuleya comunica che lo aspetterà chiamando a casa. Hakan tuttavia fa ritorno da Giulia e la scopre in lacrime, stringendo una vecchia fotografia di Demir. Hakan la consola con un abbraccio e un bacio, per poi prendere la foto e la brucia. A Villa Yaman, Fikret, ancora teso, esprime alla zia la sua preoccupazione per il ritardo di Zuleya e il fatto che sia in compagnia di Mehmet, un uomo che non conoscono. Lutfie, sopraffatta, già lì suggerisce di tornare a casa e promette di informarlo non appena Zuleya farà il suo ritorno. Fikret, tuttavia, insiste nel voler attendere. Quando finalmente Zuleya e Hakan arrivano, Lutfie tenta senza successo di fermare Fikret, che si avvicina ad Hakan in modo minaccioso, chiedendo perché sia sempre vicino a Zuleya e quali siano le sue intenzioni. Zuleya interviene mostrando a Fikret la lettera di Demir a Giulia, invitandolo a leggerla per comprendere la vera natura di suo fratello, un uomo che ha abbandonato una ragazza dopo averle dichiarato amore, causandole un dolore tale da confinarla su una sedia a rotelle da 15 anni. Zuleya Ghali rivela inoltre di essere andata a Izmir per incontrare questa ragazza e scoprire la verità, e ora non sa come potrà mai perdonare Demir. Ringrazia poi Hakan per il suo sostegno e la condivisione del dolore di Giulia. Hakan se ne va, chiedendole di non arrabbiarsi. Fikret, dal canto suo, le assicura che un giorno capirà di aver avuto ragione su Mehmet. Più avanti, Zuleya si trova da sola nel soggiorno, osservando pensierosa una fotografia di Demir. In quel momento, Sanie la raggiunge, consigliandole di non arrabbiarsi e di aspettare il ritorno di Demir per chiarire eventuali malintesi. Tuttavia, Zuleya è risoluta, e afferma che intende divorziare immediatamente, non potendo tollerare la convivenza con un uomo responsabile di aver rovinato la vita di una giovane ragazza. Nel frattempo, Hakan va da Kadir per informarlo che ha deciso di annullare il piano riguardante la nave e di non danneggiare le merci degli Yaman, che giungeranno a destinazione. Kadir non accetta questa decisione e si oppone, ma Hakan insiste sulla necessità di combattere lealmente contro Demir e di non causare danni finché quest'ultimo non tornerà. Kadir fa notare che anche Zuleya appartiene alla famiglia Yaman, ma Hakan sottolinea il suo buon carattere e la necessità di non nuocerle. Kadir chiede come potrebbero fermare l'operazione, e Hakan Gai risponde che si recherà immediatamente a Mersin per gestire la situazione. Dopo la partenza di Hakan, Kadir, non essendo d'accordo nel bloccare il sabotaggio delle merci degli Yaman, chiama un suo contatto a Mersin, istruendolo ad impedire a ogni costo l'incontro tra il suo socio Mehmet Kara e il capitano della nave Royal 7. Prima di continuare, abbiamo una piccolo annuncio per te. Vogliamo invitarti ad iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Questo semplice gesto non ha alcun costo per te, ma è fondamentale per noi. Ti permetterà di essere sempre aggiornato sui nostri ultimi video e ci darà un grande supporto. Grazie di cuore! La sera stessa, Fikret e Betul si incontrano in paese. Lei Gali chiede conferma riguardo alle affermazioni di Zuleya su Demir. Fikret ammette di avere difficoltà a credere a tali accuse. Anche Betul esprime dubbi, ricordando che Demir era molto corteggiato in passato, e ritiene che, se Giulia ha scelto di farsi del male dopo la fine della loro relazione, la colpa non possa essere attribuita a Demir. Lei aggiunge che ha sentito dire in giardino che Zuleya è convinta del contrario e che ha rimproverato Fikret ingiustamente, nonostante sappia che il suo unico interesse è proteggere la famiglia di suo fratello. Fikret confida di non capire come Zuleya possa fidarsi di Mehmet, che ha acquistato le sue azioni di nascosto e le ha concesso facilmente il diritto di firma, portandola poi a incontrare il peggior nemico di Demir. Egli sottolinea che Zuleya dovrebbe essere più preoccupata per la situazione di Demir. Betul concorda con lui, assicurando che Zuleya capirà le sue intenzioni una volta calmata. Fikret la ringrazia per la sua comprensione e per aver capito le sue motivazioni. Quando Hakan giunge alla capitaneria di porto di Mersin per incontrare il capitano della nave Royal 7, l'individuo incaricato da Kadir finge di tentare di stabilire un contatto con la nave. Tuttavia, non riceve risposta e nel frattempo la nave esplode in mare. Hakan, intuendo che qualcosa di grave è accaduto, decide di lasciare il posto. Dopo aver espresso gratitudine a Betul per la sua comprensione e averle preso delicatamente la mano, Fikret le confida quanto lei sia importante per lui e quanto la apprezzi. Betul, a sua volta, fa notare che si è allontanato, forse pensando che lei fosse troppo precipitosa, ma le cose non stanno così. Lei confida di sentirsi davvero a suo agio al suo fianco. Fikret le assicura che anche per lui è lo stesso, altrimenti non avrebbero trascorso quella notte insieme. Betul, commossa dalle sue parole, lo accarezza e lo bacia. Nel frattempo, due donne di Shukurova, osservando la scena, non perdono occasione per spettegolare e speculare sul loro futuro. Il mattino successivo, Cetin rivela a Gulten di aver abbandonato il suo posto di lavoro. Spiega che, nel tentativo di calmare un irascibile Fikret, quest'ultimo lo aveva sfidato davanti a tutti i lavoratori a lasciare se non fosse stato d'accordo. Gulten osserva che Fikret ultimamente perde facilmente il controllo e finisce per litigare con tutti, facendo notare anche la preoccupazione di Lutfi al riguardo. Cetin le confida che, secondo lui, la vera causa della turbolenza di Fikret sia Zuleya, sperando di sbagliarsi. Gulten esprime la stessa speranza, auspicando che la situazione non sia quella. Nel frattempo, durante la colazione, Zuleya ascolta alla radio una notizia sconvolgente. Una nave partita dal porto di Mersin, carica di merci di una holding turca, è naufragata nelle acque vicino a Cipro. Zuleya, turbata, prega che non si tratti della loro nave. Anche Kadir e Akan ascoltano la stessa notizia, con Kadir che rimarca di essersi mosso troppo tardi per impedire l'operazione, fingendo dispiacere per non essere riuscito a fermare il sabotaggio in tempo. Zuleya, dopo aver verificato che il carico era effettivamente il loro, si precipita in azienda e informa Betul che la nave con il loro carico è affondata, causando la perdita di 250 tonnellate di merci. In seguito, raggiunta da Akan, Zuleya si accorge dell'assenza della polizza di assicurazione della merce, e Betul suggerisce che potrebbe essere stata fatta sparire da Erjan. Akan allora si offre di occuparsi personalmente di recuperare una copia della polizza dalla compagnia di assicurazione. Zuleya esprime la sua profonda preoccupazione, poiché, nonostante un possibile risarcimento assicurativo, temono di perdere il cliente non essendo in grado di fornire la merce nei tempi previsti. Betul si mostra dispiaciuta e propone il suo aiuto per risolvere la situazione, ma Akan le assicura che se ne occuperanno lui e Zuleya. Subito dopo, Zuleya viene informata da Sabia che l'ufficio destinato a Betul non è ancora pronto a causa della mancata scelta dei mobili da parte di Betul. Quest'ultima spiega a Zuleya che non ha bisogno di un nuovo ufficio, poiché si trova a suo agio in quello attuale. Tuttavia, Zuleya insiste, sostenendo che Betul potrebbe lavorare meglio in uno spazio tutto suo. Prima di uscire, Zuleya chiede a Betul di continuare a svolgere le sue mansioni nell'ufficio di Erjan. Durante un pranzo al ristorante, Akan cerca di rassicurare Zuleya, suggerendole di non arrabbiarsi e di fidarsi di lui. Spiega che, grazie ai suoi contatti, potranno riacquistare la merce da Spagna e Italia, consegnandola rapidamente ai loro clienti. Akan poi le chiede notizie su Demir, e Zuleya rivela che non ha avuto alcun aggiornamento, ma che intende contattare il suo avvocato il giorno seguente per iniziare le pratiche di divorzio. Betul, tornata a casa, è frustrata sia per essere stata esclusa dal suo ufficio da Zuleya, sia per l'influenza crescente di Akan nei affari aziendali. Si promette di non lasciare l'azienda e di non cedere il controllo a Zuleya. Dopo essere rientrata, Zuleya confida a Sanye le sue frustrazioni. Sanye la rassicura, dicendo che molte persone sono invidiose e cercano di approfittare di lei, ma che Mehmet è lì per sostenerla. Zuleya poi racconta a Sanye che Betul non desidera un proprio ufficio. Sanye, intuitiva, sospetta che Betul ambisca all'ufficio di Zuleya, ma Zuleya difende Betul, sostenendo che non è quel tipo di persona e che le è stata di grande aiuto. Sanye, tuttavia, avverte Zuleya di stare attenta a Betul, che è pur sempre figlia di Shermin. Zuleya poi esprime tristezza per il comportamento di Demir, che ritiene abbia distrutto la sua vita come suo padre, distrusse quella di Hunkar. Shermin, dopo aver girato in paese per mostrare la sua nuova auto, arriva alla villa attirando l'attenzione a colpi di clacson. Zuleya si complimenta per l'acquisto e Shermin rivela di averla comprata con i soldi ricevuti da Betul come risarcimento dal marito. In quel momento, una furiosa Betul arriva e sgrida Shermin, accusandola di essere avida e di aver allontanato suo marito Sabhatan. Betul poi prende le chiavi dell'auto, decisa a riportarla indietro, mentre Shermin esprime la sua delusione e si lamenta con Fiusun per essere stata disonorata dalla figlia. Sanye e Gulten discutono sull'accaduto, e Sanye nota che Betul aveva già acquistato la villetta di Mujgan con i soldi ricevuti in precedenza dall'ex marito, trovando strano che le abbia inviato ulteriori fondi. Sanye sospetta che le due donne nascondano qualcosa, e lo ha condiviso con Zuleya, che però non sembra credere alle sue preoccupazioni. Cetin ha trovato posto come cameriere in un'osteria, e lo raggiunge Fikret, che Glee chiede scusa dicendo che sono successe tante cose, e non è riuscito a controllare la sua rabbia. Poi chiede di tornare perché il suo contributo è indispensabile. Cetin risponde che vuole solo che lui onori il nome di Fekli che porta, ma che non tornerà a lavorare con lui. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il continuo» nei commenti, e se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!